Cari amici, liberiamo i cittadini e le imprese dalle catene della burocrazia, perché l'economia ha bisogno di riprendere il volo e la ripresa del Paese dipende dalle sue categorie produttive. Lo Stato deve essere un loro alleato, non un ostacolo o una mantagna da scalare. Per questo noi di Forza Italia vogliamo semplificare l'amministrazione burocratica, perché chi ha coraggio e interprendenza, chi vuole aprire una nuova attività o costruire un edificio, deve essere messo nelle condizioni di farlo senza essere costretto ad affrontare un labirinto inestricabile di autorizzazioni che rischiano di far crollare ogni progetto, di far venire meno ogni voglia di fare. Io sto proprio lavorando a un progetto di legge che cambierà tutto questo. Chi volesse alzare una sanna cinesca, chi volesse costruire o anche solo ristrutturare una casa, basterà che invii una raccomandata o una PEC al Comune di Pertinenza e il giorno dopo potrà cominciare a lavorare. In questo modo cancelleremo il meccanismo perverso delle autorizzazioni preventive, introducendo naturalmente sistemi di controllo a posteriori, alla fine dei lavori e prevedendo sanzioni in caso di violazioni delle legge urbanistiche. L'Associazione dei Costruttori Italiani, a cui ho spiegato questo mio progetto, ha calcolato che con l'abolizione delle autorizzazioni preventive si creeranno in breve tempo almeno un milione di nuovi posti di lavoro. Quindi dobbiamo semplificare per costruire, dobbiamo semplificare per ripartire, dobbiamo semplificare le leggi burocratiche per rilanciare la nostra economia. Noi la pensiamo così e ci daremo da fare in questa direzione. Se sei d'accordo anche tu devi aiutarci andando a votare e naturalmente votando per noi, per Forza Italia.